Ben ritrovati italiani, questa settimana parleremo di discriminazione e razzismo. Ricordiamo che lo scorso 21 marzo si è celebrata in tutto il mondo la giornata mondiale contro il razzismo, indetta da Lunar. Ricordiamo il massacro del 1960, la giornata più sanguinosa dell'apartheid in Sudafrica. Per questo Lunar, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale del Dipartimento delle Pari Opportunità, come ogni anno ha organizzato delle campagne molto interessanti contro il razzismo. Proprio per questo abbiamo come ospite in studio Marco Buemi, esperto del Lunar Nazionale, Liliana Ockmin, che è la responsabile del Dipartimento Donne, Giovani e Immigrati della Cisla Nazionale, Mohamed Sadi, presidente dell'Anorf Nazionale. Quindi innanzitutto vi ringraziamo di essere qui con noi e prima di iniziare vediamo un video prodotto da Lunar. E poi ne parliamo. Davanti al razzismo, apri gli occhi, perché la conoscenza fa crescere la convivenza. Per questo Lunar, del Dipartimento per le Pari Opportunità, organizza dal 16 al 22 marzo la settimana d'azione contro il razzismo. Scopri il programma su unar.it e partecipa alle iniziative, perché i pregiudizi accecano il futuro. Settimana d'azione contro il razzismo, 16 al 22 marzo. Accendi la mente. Spegni i pregiudizi. Ritorniamo e Buemi. I risultati di queste settimane, siamo giunti all'undicesima edizione possiamo dirlo, quali sono i risultati di queste campagne che sono sparse in tutta la penisola. Sì, per l'undicesimo anno organizziamo la settimana contro il razzismo, che è un evento di punta per il nostro ufficio. E quest'anno abbiamo avuto dei risultati incredibili. Un movimento veramente intorno ai territori, da parte delle associazioni, da parte dei sociali, da parte dei comuni, da parte delle scuole, che hanno manifestato con azioni molto forti una campagna di sensibilizzazione contro le discriminazioni etiche e razziali. Quindi abbiamo avuto più di 400 eventi sui territori, quindi su tutti i territori in Italia, e più di 700 comuni che hanno addiritto alla campagna, quella che abbiamo visto appena adesso, quindi accendi la mente e spegni i pregiudizi, che è stato proprio lo slogan con cui si sono portati avanti tutti questi eventi territoriali. Ricordiamoci che le discriminazioni razziali, abbiamo dato anche gli ultimi dati del nostro ultimo rapporto che presentiamo al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri, parlano chiaro, le discriminazioni etniche e razziali sono le prime discriminazioni denunciate in Italia, quindi sono più del 50% le discriminazioni denunciate per origine etniche e razziale. Sappiamo benissimo che l'UNAR ad oggi interviene per tutti i tipi di discriminazione, quindi quando noi facciamo queste statistiche poi analizziamo anche i dati e vediamo che in questo caso dal mondo del lavoro le discriminazioni, il totale di discriminazioni sono il 20% di quelle segnate e denunciate. Il primo campo di azione in cui noi monitoriamo e registriamo le maggiori discriminazioni sono nei media, quindi, e questo non è un caso che siano nei media, i media sono un veicolo di forte pregiudizio ancora in Italia, quindi il linguaggio usato spesso nei giornali, il linguaggio spesso usato nelle televisioni producono ancora forte discriminazione. E se analizziamo questo 20% di discriminazione nel mondo del lavoro, notiamo che più del 70% delle discriminazioni e di denunce arrivano nella fase di accesso al mercato del lavoro. Quindi il mercato del lavoro è ancora un mercato del lavoro molto debole, in cui gli immigrati e le persone di origine esterniera fanno fatica ad accedere. Bene, Liliana Ockmin, quanto è importante mettere al centro del Dipartimento tematiche, tante tematiche, ma le tematiche che riguardano la discriminazione e il razzismo? È fondamentale, come sindacato peraltro sui temi del dialogo interreligioso e interculturale abbiamo fatto passi da gigante, non a caso nell'ultimo esecutivo a fine febbraio abbiamo proprio dedicato una giornata di seminario con i dirigenti ovviamente a tutti i livelli, a livello nazionale per poter cercare di riflettere sulle sfide che l'Europa ha sui temi, non soltanto economici che sono fondamentali per il benessere del Paese e per la crescita economica, ma anche le sfide culturali sul fronte appunto di questo tema così delicato come appunto il dialogo interculturale. Non a caso noi come sindacato abbiamo questi strumenti che sono la contrattazione e la concertazione sociale. Come sindacato da questo punto di vista anche abbiamo raccolto esperienze positive in termini di contrattazione. Ci sono alcuni contratti nazionali che prevedono specifici interventi che raccolgono appunto nel particolare esigenze dei lavoratori con provenienze straniera. Non a caso noi vogliamo ricordare anche qua il tema della contrattazione e l'istrumento della bilateralità, nel caso specifico delle lavoratrici badanti, colp badanti, la categoria la FISASCAD, è da anni che lavora con l'ente bilaterale che dà risposte concrete. Credo che questo è il migliore modo non solo di parlare su questo tema che è importantissimo, ma di agire attraverso gli strumenti che sono consoni al sindacato. Sappiamo e attenzioniamo anche come coordinamento nazionale delle donne il tema delle discriminazioni multiple. Stiamo parlando in particolare sulle discriminazioni di cui sono soggetti non soltanto chi è di origine diverso, ma che in più può essere donna e che in più magari anche portatrice d'handicap. Quindi queste discriminazioni che si concentrano e spesso poi nel genere femminile sono agudizzate di questo fattore di genere. Su quello poi con il coordinamento e anche attraverso le azioni dei coordinamenti sui territori ci sono delle iniziative specifiche sul tema anche della violenza e delle difficoltà di alcune generazioni, per esempio le giovani, che nel riconoscersi in integrazione concreta in questo Paese spesso poi sono vittime di violenza anche tra le mure domestiche. Su questo vorremmo lavorare in futuro perché per noi è importante cercare di raccogliere come dire l'esperienza di protagonismo in prima linea dei lavoratori, delle lavoratrici e dei giovani e le giovani straniere che su questo vogliono insieme alla comunità italiana costruire mattone su mattone questa grande sfida che abbiamo e di appunto fare una società giusta, una società che tenga conto delle pari opportunità e delle non discriminazioni. Bene Liliana, grazie. Sadi, le azioni dell'ANORF, quindi dell'associazione, in merito a queste tematiche? Innanzitutto bisogna comunque partire da un dato importante ma purtroppo negativo che ci indica che le azioni di intolleranza e di racismo sono aumentate negli ultimi anni e questo è legato a due fattori, in primis il disagio economico. Il disagio economico e la scarsa opportunità di lavoro per tutti ci fa assistere ad un incremento così forte che viene poi letto come chiave di canalizzazione di un malessere diffuso purtroppo poi filtrato e orientato da pregiudizi e da stereotipi. C'è un fenomeno che ci tocca molto da vicino di cui tutti i mass media parlano è quello dall'incremento stesso di episodi di aggressioni verbali che vengono veicolati tramite il web quindi anche c'è una rassicurazione dell'anonimato del nickname, c'è una, come dire, una spinta verso una convinzione dell'impunità quindi l'aggressione, oltre ad essere verbali abbiamo anche notato una dimensione sociale diffusa di intolleranza, di prodisposizione alla xenofobia nei spazi pubblici c'è un atteggiamento aggressivo di strada di sfondo razziale ci sono, come dire, dichiarazioni a scopo elettorale di creazione di rassismo e di intolleranza quindi questo ci fa riflettere che c'è un cambiamento una tendenza, come dire verso un rassismo una xenofobia diversa rispetto al passato e aveva ragione il dottore Bohemia a dire che comunque i mass media e i mass media è un strumento molto importante su cui bisogna intervenire a cui bisogna inventare degli strumenti capaci di poter far fronte ad una deriva xenofoba basta anche linguistica culturale basta citare la questione del terrorismo attuale spesso viene associato il terrorismo ad una religione qua credo che sia già un errore il terrorismo non può essere associato a nessuna religione a nessuna cultura quindi esiste un terrorismo ma non c'è un terrorismo né islamico né cattolico né ebreo allora bisogna partire anche da una da un invito ai mass media di moderare e di trovare i termini giusti per poter presentare un tema o una questione benissimo a proposito di spazi pubblici noi vi proponiamo un video di campagna di sensibilizzazione con le aziende dei trasporti e delle ferrovie dello Stato vediamolo e poi ritorniamo in studio a Grazie a tutti Bene, Marco Buemi, come è nata l'esigenza di realizzare quest'altro spot molto efficace? L'esigenza è nata grazie a un finanziamento dell'Unione Europea e a un progetto che avevamo presentato lo scorso anno che ci è stato finanziato dalla DG Giustizia della Commissione Europea che era quello di investire energie e campagne di sensibilizzazione per quello che è chiamato il diversity management nelle aziende quindi quella pratica che dovrebbe sempre più prendere piede in Italia ma che è ancora fatica e stenta ma che sempre più aziende internazionali sono interessate ad implementarla nelle proprie aziende e che è quella di lavorare in modo interno con formazione ai dirigenti, ai quadri e alle persone in questo caso sono aziende di trasporto che sono di front office, persone che sono continuamente a contatto con persone di origine straniera e ci sono arrivate parecchie segnalazioni da questo ambito, quindi dal mondo dei trasporti per questo abbiamo deciso di fare questa azione molto forte sia con Ferrovie dello Stato italiano sia con ATTAC qui a Roma e la campagna gioca su questa parola differenze e infatti c'è lo spelling di differenze e ogni parola ha un significato particolare tipo di come dialogo e via dicendo è stata prioritata tutta la settimana scorsa in tutti i frecce rossa che collegavano anche in modo simbolico Napoli con Milano quindi tutte le persone che hanno viaggiato su quei treni hanno potuto vedere questo video sugli schermi e in più abbiamo fatto una campagna moto capillare di flyer sui sedili di questi treni e in più abbiamo fatto un articolo sulla rivista La Freccia quindi diciamo che questa campagna in questo caso è arrivata all'esterno e quindi a quelli che usufruiscono giornalmente di questi treni in più ci sarà un percorso di formazione anche con i front office di Ferrovie dello Stato per avviarli a questo percorso di interazione anche con le persone di origine straniera Bene, Liliana, cosa rappresenta anche per te, ricordiamo anche le tue origini non italiane rappresenta per te il razzismo, hai parlato di donne, giovani e immigrati Beh, è chiaro che è una piaga che dobbiamo cercare di eliminare su tutti i fronti le discriminazioni sono un male che non deve assolutamente attecchire nel cuore e nell'animo delle persone siamo però anche consapevoli che ogni strumento, in un caso queste settimane di sensibilizzazione sono funzionali per poter cercare di sensibilizzare la consapevolezza delle persone però allo stesso tempo abbiamo noi coscienza, noi come sindacato abbiamo a che fare con una crisi che si protrae negli anni, che si accomuna anche a una difficoltà di crisi bellica e di situazione delicata del riposizionamento geopolitico e sulle situazioni belliche dell'altro lato del Mediterraneo io credo che bisogna chiarezza, buonsenso e ragionevolezza anche nelle politiche che si impiegano e si dovrebbero far carico di alcuni problemi notali che in questo momento possono agudizzare sia nell'immaginario collettivo il fatto di essere invasi dei richiedenti asilo che è negativo se viene percepito in media su quello devono sicuramente dare informazioni chiare e serie dell'altro canto anche il tema stesso della valorizzazione perché l'immigrazione è una ricchezza e non è un slogan, è una ricchezza se questa viene governata, se questa viene anche in qualche modo valorizzata lo diceva il dottor Bohemi sul fronte anche del management se ci fosse una politica di valorizzazione non soltanto noi diciamo spesso le battaglie della valorizzazione delle donne all'interno dei vertici ma anche la diversità culturale come elemento di ricchezza che può produrre business è ovvio che molti paesi ci insegnano come il tema delle immigrazioni sia rappresentata la chiave di volta non soltanto in termini economicistici ma anche in termini di valorizzazione culturale è per me una riflessione motore fondamentale per una mobilità sociale perché senza una mobilità sociale, senza un'integrazione vera che venga fuori anche con percorsi come dire, di realizzazione, viene faticoso pensarlo oggi che lavoro manca, che lavoro non c'è però è l'unico percorso che può garantire sicuramente una società che sia equa e che sia in qualche modo giusta io penso che da questo punto di vista il sindacato possa giocare un ruolo fondamentale non soltanto perché è una delle organizzazioni capirali sul territorio ma anche perché rappresenta un protagonismo fondamentale nella società e su questo penso che abbiamo un grande affare non soltanto attraverso le nostre basi sindacali, i nostri RSU, i nostri delegati ma anche con il lavoro e l'impegno che l'associazione, noi promuoviamo l'anno fa moltissimi anni e credo che su questo il Presidente possa testimoniare quello che è rappresentato per la CIS questo catarpila, questo braccio operativo fondamentale che noi continueremo a sostenere e continueremo appunto a dare maggiore spazio e come dire protagonismo che è fondamentale per realizzare questi obiettivi delle non discriminazioni e di sconfiggere anche il razzismo e i sentimenti dei pregiudizi che ancora attecchiscono purtroppo Quindi grazie. E su questo discorso della Hockmin, quindi la rappresentanza quanto può rappresentare l'ANOLF e sconfiggere parte di queste discriminazioni e il razzismo? Innanzitutto bisogna partire da una constatazione che la nostra azione contro le discriminazioni di tutti i tipi sono capellare. Le nostre strutture, i nostri sportelli sono aperti e fanno un'azione di sopporto e di ascolto ai vari soggetti che hanno subito sia violenza verbale sia azioni di intoleranza e di xenofobia. Questo ci ha consentito innanzitutto di progettare insieme alle istituzioni e insieme all'UNAR stessa delle azioni mirate che fanno prima di tutto partendo da un'analisi per individuare una metodologia di intervento che dia alla struttura stessa la capacità di catalogare gli episodi di racismo per poter innanzitutto riflettere insieme agli stessi soggetti alle stesse vittime come intervenire. Questo ci ha consentito in qualche modo di utilizzare i nostri meccanismi, i nostri strumenti, vale a dire la mediazione culturale per poter comunque agire in alcuni in alcuni diciamo territori e utilizzare la stessa mediazione culturale per arrivare ad un obiettivo che dia una risposta oggi a coloro che ancora non credono che la società italiana fosse cambiata. E da lì si parte, si parte da una consapevolezza che bisogna agire nelle scuole, che bisogna comunque insegnare ai bambini che la società è basata sul multiculturalismo. Il multiculturalismo intendo che esistano altre culture, che gli stessi bambini nati in questo paese sono dei bambini e dei cittadini italiani. Questo è uno dei nostri obiettivi. C'è da fare molta strada e non possiamo negare il sostegno stesso dell'organizzazione sindacale della CISEL che ha utilizzato insieme a noi questi strumenti in quanto ha voluto agire nei posti di lavoro oppure ha voluto utilizzare gli operatori o volontari dell'ANORF o i mediatori culturali per far arrivare alcuni messaggi e per creare un terreno di tutela sindacale che agisca contro tutte le discriminazioni che avvengano nei posti di lavoro. Bene, quindi Boemi, il coinvolgimento dei sindacati e delle associazioni, quanto è importante le prossime iniziative, le prossime iniziative che vorrai darci appunto come informazione? Il coinvolgimento del sindacato è fondamentale, come di tutte le parti sociali, ricordiamocelo. Noi abbiamo istituito una cabina di regia presso Lunar che si riunisce un paio di volte l'anno appunto per discutere di queste tematiche e per ricordarci che la settimana contro il razzismo è una settimana dedicata intorno a questa data fondamentale che è il 21 marzo, ma che poi prosegue per tutto l'anno. Quindi è chiaro che una mobilitazione così forte come l'abbiamo avuto durante questa settimana, ripeto, 700 comuni più di 420, non si può avere per tutto l'anno perché sarebbe veramente per noi il massimo del profitto poi ricavato dalle nostre azioni di sensibilizzazione, però noi continuamente cerchiamo di dialogare in questo ambito che è di fondamentale importanza che è il mondo del lavoro, perché appunto, come dicevo, le discriminazioni che arrivano dal mondo del lavoro negli anni sono state le discriminazioni maggiori che noi abbiamo monitorato e continuano ad essere le discriminazioni che portano via, diciamo, risorse dal paese. Perché ricordiamoci che le persone che sono discriminate e con un percorso di discriminazione lungo sono persone poi che non solo non producono, ma spesso anche cambiano paese, proprio perché quel paese che non le valorizza è un paese appunto che ha una perdita di PIL, proprio una perdita economica e porta le persone a cambiare il progetto migratorio. Le prossime campagne, se posso dire proprio due parole, avremo proprio delle campagne di comunicazione che ci porteranno nel mondo del lavoro. Parlavo prima di questo progetto finanziato dall'Unione Europea, ci porterà appunto ad affrontare il diversity management non solo nelle public utilities, quindi nel mondo dei trasporti, ma anche nei comuni. Siamo abbastanza all'avanguardia su questo, non si è mai fatto nulla sul diversity management nelle public administration e quindi per noi finalmente questo rappresenta il nuovo fronte per combattere le discriminazioni, perché si combattono molto spesso all'interno dell'azienda ma non nella pubblica amministrazione. Quindi vi ringraziamo, il nostro tempo è terminato, quindi ringraziamo Marco Ubuemi, esperto dell'UNARAN nazionale, che ha accettato il nostro invito, Liliana Ockmi, responsabile del Dipartimento Donne, Giovani e Immigrate della CISL nazionale e Mohamed Sadi, presidente dell'ANORFA nazionale. Speriamo di rivederci quanto prima per prossime puntate, sempre in merito al mondo, complesso mondo che è l'immigrazione. Ringraziamento speciale da LaborTV. Grazie di essere stati con noi. Grazie a tutti.